Sono Nicola Vanzo, da Savagnini e vorrei presentarvi al nuovo B3 con tecnologie Kinetiche. Kinetiche è una nuova soluzione sviluppata da Savagnini per il mondo di press break, ma non solo per il press break. Il gruppo è un set di avvantaggi che abbiamo trovato da nostre soluzioni, come la macchina di pannelli e il sistema laser. Quindi abbiamo trovato la flexibilità e la potenza di una unità dinamica del sistema S4, il movimento fluente e il movimento veloce del panel bender, il sistema kinetiche di recuperazione del panel bender e ci siamo concentrati su un prodotto che è il B3. Quindi, grazie a questa funzione, abbiamo potuto raggiungere una macchina alta performance. Devo dire che nel movimento veloce, il sistema funziona a 220 mm per seconda, ma usando la consumazione di una macchina tipica elettrica. Questo è anche grazie a KERS. KERS è un sistema di recuperazione di energia kinetiche, potente recuperare, riportare e produrre l'energia per i prossimi passaggi. Inoltre, abbiamo presentato due nuove funzioni importanti. Il primo è il controllo. Abbiamo usato sul B3 il nostro controllo proprietario, il Salvagnini, che si chiama il SIX. Il sistema di integrazione di controllo e abbiamo sviluppato una nuova interfase che si chiama Press Studio, per programmare facilmente la macchina con la nuova console che permette il cliente di avere in fronte di lui tutte le informazioni che si chiama, per programmare la macchina. E il nuovo sistema di controllo inglese. È un sistema di controllo real-time multi-tool, potente controllare e permettere il cliente di capire il programma inglese proprio al primo punto. Grazie a tutti.